Benvenuto in una nuova intervista del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format mi confronterò con imprenditori, direttori marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di sapere ottenere risultati significativi nel loro campo. Mi presento, sono Gianluca Testa, imprenditore consulente del settore marketing. Da oltre 20 anni supporto le aziende nell'affascinante mondo della creazione dei brand, del lancio di nuovi prodotti e dell'incremento delle vendite. Bene, cominciamo. Oggi siamo in compagnia di Massimo Giacchino. Grazie Massimo per essere passato nel Marketing Garage. Grazie a te per l'invito. Massimo è un grande esperto di analisi di mercato e anche un marketer, giusto? Sì, molto operativa, mi diverte ancora. Sporcarmi le mani nel garage. Esatto, esatto, quindi che sei nel posto giusto e quindi con lui affronteremo determinati demi legati al marketing, alle campagne, alla gestione di campagne pubblicitarie, quindi sicuramente sarà un viaggio affascinante. La prima domanda che mi viene da farti è come sei arrivato a occuparti di analisi di mercato? Qual è stata la scintilla che ti ha avvicinato a questo? Diciamo che è stato un percorso nato da esigenze. Io nasco dal mondo startup in cui mi trovo dei prodotti in mano e mi dicevano vendili. A chi le vendo? Perché devo coprire da me? Cosa fa la concorrenza? C'è mercato. Quindi da lì ho iniziato a crearmi un mio metodo di analisi con cui poi una startup è andata molto bene. Avevo fatto il responsabile marketing per due anni per un e-commerce food, poi questo è stato acquisito e dopo sei, sette anni che capivo il mercato, i concorrenti, le buyer personas, avevo preso una piccola buona uscita, mi sono fermato un attimo e ho detto secondo me posso portare il concetto di analisi di mercato perché appunto facevo quello per la mia, diciamo, per la startup in cui lavoravo e anche per altre startup, progetti che ovviamente quando uno inizia qualcosa va bene, qualcosa va male, poi tante attività di mentorship anche con l'Università di Bologna, vedi sempre insomma startup e da lì ho detto secondo me c'è mercato per questo. E poi hai pubblicato due libri che sono diventati due best seller, cosa veramente molto rara nel settore marketing, uno è design marketing, analizzare i microdati, poi metteremo le schede un po' più grandi, chiediamo alla regia e poi audience personas, analizzare sempre i microdati, no? Quindi legato, che ne hai venduti veramente tantissimi e quindi è stato un successo editoriale che e si è diventato molto conosciuto dietro, no? Fortunatamente, sì, ma mi hanno apprezzato i microdati. Dai, bene, e ho una curiosità, ma me la levi, no? Nel senso, perché tu ti rivolgi sostanzialmente alle aziende perché sei un consulente. Sì. Però hai pubblicato dei libri che in realtà sono per gli addetti ai lavori. Quindi mi spieghi meglio il tuo posizionamento, ecco. Ma diciamo che è una strategia nel senso che l'attività principale anche per il libro è stata quella di consulente quando ho deciso ok adesso porto l'analisi di mercato e quando poi ho detto, siccome a me si è preso a fare la formazione all'interno anche dell'università con quello dei professori o nell'incubatore di startup e poi non nascondo che la formazione è più scalabile rispetto alla consulenza. Insomma, mi piaceva, è anche diciamo più profittevole perché parli a una tanti concettualmente. L'ho detto faccio il libro e quindi il libro è rivolto a miei colleghi di marketing e io in realtà parlo principalmente a loro oggi come attività. Ovviamente da questo ci sono altri marketing manager importanti anche di e-commerce importanti o di aziende insomma di un certo valore che leggono il libro e mi chiamano per la consulenza. Quindi diciamo oggi, prima la consulenza prende il libro, virgolette la cercavo, oggi mi viene in diretta perché il mio target principale in realtà sono i colleghi di marketing per trasmetterli come fare un'analisi di mercato. È interessante questo discorso, può essere una buona scuola per chi cerca di posizioni. Sicuramente per vendere della formazione devi dimostrare, fare, avere un concetto, un metodo. Quindi per me il libro è stata la chiave e diciamo la mia quotidianità è questa, lavorare per divulgare contenuti per diciamo colleghi di marketing. Poi c'è appunto chi vuole imparare o chi, marketing manager magari, che dice no voglio che me la fai l'analisi. E ancora assolutamente le faccio e il business è ancora a metà e metà, è tutto qua. Devo dire che nel libro ogni pagina ci sono una marea di indicazioni proprio molto pratiche su come fare effettivamente le cose. Quindi è assolutamente... Mi approccio, sono sempre stato estremamente operativo, appunto lavoro nelle startup e inizi con poco budget, quel budget di far fruttare sei solo tu all'inizio. Poi probabilmente sono anche molto cresciuti nel progetto in cui ho lavorato, però sei estremamente operativo, ti rimane molto quella cosa, ogni cosa che esce, sei il primo che la testa, che la prova e quindi questa mia mentalità poi l'ho messa a terra, mi approccio, l'ho messa a terra nei libri. Entriamo un pochettino più dentro l'argomento che tratti. Tu fai riferimento al concetto di on-life, no? Ci vuoi spiegare un po' meglio come nasce, ecco? Allora, on-life è un termine di Luciano Floridi, che è un professore universitario italiano, adesso lavora a Cambridge, è passato anche dall'Università di Bologna e quindi lui dice che ormai non c'è più una differenza tra la nostra vita offline e online, nel senso che appunto la mattina ci alziamo, la prima cosa che facciamo, guardiamo il telefono, siamo all'interno di un grande, da media world o da footlocker, quindi anche da grandi leertail, diciamo guardiamo il prodotto e controlliamo online quanto costa, quindi non c'è più o la recensione, quindi non c'è più questa distinzione e quello che appunto dimostro all'interno del libro è che queste azioni che vengono offline, questo passaggio poi con l'online, quindi questo on-life diciamo può essere totalmente tracciato, riconosciuto, ricostruito attraverso dei passaggi insomma. E infatti si dice che noi online lasciamo delle tracce e forse il tuo lavoro è proprio quello di seguire queste tracce alla ricerca di questo grande tesoro che sostanzialmente poi è una folla affamata di consumatori che vuole il tuo prodotto, no? Sì sono miniere d'oro diciamo i dati che lasciano le persone perché sono estremamente comportamentali, c'è la loro opinione, c'è la loro vita dietro l'hashtag, ciclista, marketing, sono le persone che hanno fatto un post, hanno la loro vita offline, stanno facendo una foto, stanno descrivendo cosa stanno facendo, quindi possiamo andare diciamo a ricostruire tutto questo e il lavoro da fare perché fa analisi di mercato è da una parte sì raccogliere il dato, diciamo è diventato anche semplice col libro, faccio vedere 30 passaggi e uno raccoglie, quello che diciamo il valore che portiamo è prima capire intanto quali dati prendere, perché ce ne sono centinaia, migliaia quando ci guardi dentro, il problema è che devi capire quali prendere, come puoi trasformarli prima in informazioni e poi in strategia operativa, quindi il vero valore è questo, non solo raccogliere il dato. Partendo da chi è il tuo cliente probabilmente. Allora è al centro di tutto. Perché poi alla fine dipende, probabilmente dove andare a cercare queste tracce dipenderà molto da quello che fa il cliente e qual è il suo obiettivo. Assolutamente sì, appunto io lascio una trentina di passaggi, quello che dico in realtà fateli sempre i passaggi perché magari alcuni business ti sorprendono, il B2B oggi è anche industriale e le aziende fanno contenuto su YouTube perché post pandemia hanno dovuto diciamo, non ho fiera, hanno dovuto fare questo passaggio e poi in realtà faccio un esempio anche lampante, ci sono alcuni B2B manifatturieri che non hanno la pagina Instagram, però i loro clienti che sono altri manifatturieri hanno però la pagina Instagram magari. Quindi quando viene installata la macchina fanno hashtag, hashtag nome del brand e quindi riesce comunque a trovare dati di un sistema manifatturiero su Instagram. Quindi io dico sempre, facciamo tutti i passaggi, poi a volte non troviamo il dato, andiamo avanti, tanto su trenta passaggi, anche se trovassi dati su dieci passaggi, molte volte sono più che sufficienti perché la qualità del dato, anche del B2B, non è tanto quanti dati trovo, ma quali dati trovo, che è della ricerca, ricerca specifica, domande che fanno, insomma si può ricostruire tutto, quindi la qualità del dato più che la quantità non è un problema se non troviamo il dato in un touch point diciamo. E molte volte avvengono sorprese, no? No, sempre avvengono sorprese, ogni volta ti stupisci perché noi non siamo il nostro target, non siamo il nostro mercato e quindi andare a vedere poi come veramente si muove, si comporta, si evolve e ti stupisce sempre. Tu fai una differenza tra la buyer's persona classica e l'audience persona? Vi sa la differenza, secondo me. Ce la spieghi un po' meglio. Sì, diciamo, allora appunto il secondo libro è chiamato Audience Personas in cui dico che è un'evoluzione della buyer personas perché intanto possiamo dire che buyer personas e audience personas sono la stessa cosa nel senso che sono il cliente potenziale, però perché ho dato questa etichetta per capire il cambiamento nel senso che la buyer personas di solito è il dato demografico e psicografico, cioè Massimo ha 36 anni, vive a Bologna, lavora nell'online, gli piace la bicicletta, no? Quante volte abbiamo viste? Però è estremamente limitativa questa cosa e soprattutto poi per l'online, per fare advertising oggi. Uno, anche perché le piattaforme già non chiamano dammi la buyer personas ma dimmi che pubblico vuoi, che audience vuoi e l'audience che voglio non è così descritta come facciamo prima con gli interessi su Facebook, su Meta o le parole chiave su Google, la direzione è andare verso il performance max e l'avance plus di Facebook in cui gli indizi che ti chiedono i segnali non sono appunto riferiti al dato demografico ma sono riferiti a delle parole, delle immagini e dei video che rappresentano il comportamento della persona. Quindi la mia descrizione non è Massimo ha 36 anni, ma Massimo quali domande, dubbi, problemi ha quando scegli un prodotto. Quindi noi dobbiamo andare a dare foto, testi e video che richiamano i problemi delle persone per anticiparli. Quindi la descrizione della buyer persona è questa, sono domande, dubbi, foto che rappresentano la persona. Ad esempio se noi vediamo anche nell'abbigliamento le persone si fanno una foto davanti allo specchio, i selfie in bagno il sabato sera nella festa, se tu come brand usi, fai questo, la persona si identifica in te e clicca, dici ah io sono quella persona il sabato sera o ad esempio per una crema brufoli, sapere che mi sono accorto i brufoli sulla spalla, per le donne anche sul seno, il mento e quindi fare foto di questo tipo la persona poi si identifica in quella rispetto a una foto classica del brufolo che non c'è, c'è solo la crema per dire. Quindi noi dobbiamo dare queste informazioni, foto, testi e video che richiamano la persona. Quindi capite che non è la descrizione base e quindi stiamo dando da mangiare all'algoritmo e diciamo indizi per riempire un audience perché lui non lo raggiunge più dopo anche tutto iOS 14, police privacy e via dicendo, non ha più dato demografico e psicografico quindi è inutile dargli quello, vuole questo tipo di segnali. Infatti era proprio una delle domande che volevo farti perché all'interno del canale ho creato dei video from scratch to brand, quindi ho creato proprio un brand di cosmetica in uno dei settori più complicati ma volevo una cosa sfidante. Ho creato un prodotto che si chiama Crema Fit che è molto posizionato su chi fa fitness quindi si è venduto molto ad esempio per chi fa crossfit e quindi lavoriamo in quell'ottica lì. Però quando ho iniziato due o tre anni fa facevo le classiche campagne tofu, mofu, mofu, il middle of the funnel, quindi mano a mano che entravano dentro gli facevo vedere cose diverse fino ad arrivare magari all'ultima le recensioni per dare fiducia. Poi da quando c'è stato il discorso di iOS 14 tutto questo è cambiato e ho iniziato a fare cose un pochettino più broad, diciamo vabbè facciamo fare a, invece leggendo il libro invece ho capito che in realtà noi stiamo diventando un po' delle, dobbiamo diventare un po' delle media company quasi, quindi produrre una serie di contenuti, trovare come degli angoli di attacco diversi, probabilmente tramite la tua analisi, trovare degli angoli d'attacco e a quel punto lì creare contenuti per questi angoli d'attacco e poi lasciare forse che che faccia l'algoritmo l'intelligenza artificiale, è così più o meno come... Assolutamente, diciamo che appunto non avendo più la possibilità anche dei dati di terze parti, qual è il problema è stato anche iOS 14, i miei dati non te li do più, cioè dei siti terzi, le persone che navigano tramite iOS su un sito fuori da meta, quindi anche sul tuo sito, su cremefitness.it centralmente e iOS dice non ti do più questi dati, diciamo adesso è un po' semplificato, quindi si è trovato senza questi dati, poi l'Unione Europea che gli diceva guarda che da demografico e psicografico come facevi prima non puoi farlo, mentre paretti in Cina mi hanno detto si può fare anche andare sotto casa praticamente, vabbè, quindi in Europa non si può fare e quindi si è trovato a dire come faccio a targettizzare le persone a capire i bisogni che hanno, ha detto analizzi i dati di prima parte, cioè tutte le interazioni che avvengono all'interno di meta o dell'ecosistema Google. E come fa a interagire le persone? Bisogna dargli tanti contenuti diversi che rappresentano problemi diversi, quindi un problema di evento poi un angolo, quindi se io interagisco con crema per fitness, allora lui mi targettizza e da lì che capisci, inizia a capire chi sono per propormi altri contenuti, quindi sì, siamo una media company perché dobbiamo andare non più da demografico e psicografico ma a foto, test e video che alimentano l'algoritmo che è il machine learning, che è come fosse una scatola, la black box, che poi diciamo che oggi sono tre fasi, una la fase in cui tu esternamente fai l'analisi, capisci quali contenuti andare a proporre, poi dopo le dai in pasto all'algoritmo che a metà appunto c'è questo black box che analizza questi dati, diciamo che non si sa come in realtà poi si capisce il concetto, diciamo analizza queste interazioni e comportamenti e poi una terza fase c'è l'intelligenza artificiale che dice in base ai comportamenti, alle azioni, ai segnali che si sono stati sviluppati all'interno del machine learning, io vado a raggiungere un pubblico nuovo, un pubblico simile a chi ha interagito, quindi questo diventa il nuovo mezzo di terribilizzazione, non più, diciamo sempre meno i dati dei siti e sempre meno i dati demografici, psicografici, diciamo. Quindi la nostra attenzione si sposta dal creare funnel sempre più sofisticati in realtà a creare contenuti. Contenuti, comportamenti, sì, quello che noi facciamo lo targetizziamo diciamo per comportamenti in tempo reale, questo sia su Google che sull'Advance Plus. A livello di numero di angoli d'attacco possibili, cioè tu hai un numero, nel senso quando cerchi, cambierà da settore a settore, da prodotti a prodotti, ma testi tre angoli d'attacco diversi o ne testi decine, ecco, da capire, ecco, dove. Dipende sempre dal budget. Allora, appunto, per scalare l'e-commerce o qualsiasi prodotto, anche locale, o eventualmente via dicendo, retail, noi come facciamo appunto? Dobbiamo avere tanti contenuti diversi che vanno in parallelo e ogni contenuto rappresenta un audience. Ti faccio un esempio, tornando alla crema brufoli, se tu vai a cercare con un tool che è ad esempio Answer the Public, che ti fa vedere cosa cercano le persone su Google e vai a vedere che le persone cercano brufoli per acne, da una parte, ma è quello più banale, non ce lo pensa, invece ho trovato brufoli dopo che ti radi la barba, brufoli da quando ho il ciclo, brufoli quando smetto di fumare, brufoli per stress, quindi capite? Tutte queste diventano angoli, diventano, diciamo, audience, se non sono audience, che poi ogni audience, però diciamo quello della ceretta, c'è un problema che può essere quando ti radi, ok? La barba che ti si incarna, ci possono essere poi vari problemi e quindi qui sono gli angoli. Poi ogni angolo ha un suo trigger, perché, non so, per, diciamo, il brufolo per lo stress, che rappresenta un audience, l'angolo può essere stress, angolo da lavoro, stress da lavoro, stress da vita quotidiana, stress da viaggio adesso. Quindi questi sono gli angoli, quindi capisci che in realtà possono essere infiniti, poi ogni angolo ha un trigger di attivazione, quindi può essere angolo, allora audience per lo stress, angolo del lavoro, è, ti è venuto fuori l'ennesimo brufolo in un periodo stressante, un trigger, ti è venuto un brufolo e domani è una riunione, un altro trigger, quindi capisci che in realtà, quindi dipende solo dal budget, e poi non ti inventi nulla, perché sono tutte, diciamo, informazioni che ti danno microdati, come li chiamo, che ti danno le persone. È un mondo affascinante, più ci entri dentro, no? Sì, no, è finito, diciamo, però è quello che ti consente di scalare l'account, perché quando dicono, ah, non funziona più Facebook, non funziona più Google, in realtà il problema è che se noi continuiamo a fare la comunicazione prodottocentrica, finisce l'audience prodottocentrica, cioè se noi, appunto, creiamo tanti angoli così, abbiamo tante audience parallele, però riesce a scalare l'account. E poi probabilmente raggiungiamo un pubblico che per noi è sempre più qualificato, perché è super qualificato, perché ha un'esigenza proprio che sente. E si identifica, secondo me è una parola importante, il marketing e l'identificazione, lo chiamo così adesso ancora, però io mi identifico in questo, ti faccio un esempio, intanto c'è una ricerca Google e Facebook che dice che solo il 3% delle over 40 si sente rappresentato nel mondo del beauty e del fashion, perché? Perché sono tutte modelle che hanno vent'anni, allora ho un paio di clienti, uno con un antirughe che ovviamente ha 40 anni ma usava modelle, ventenni, e un altro per quanto riguarda i gioielli e vi facciamo vedere che appunto attraverso l'analisi degli asta chi si taggava, chi comprava i prodotti, erano anche le over 40 e se tu vedi una ventenne che ha una collana, dici ah che bella, come li sta bene, dici che sta nel mio collo con le rughe, invece magari vedi una quarantenne che ha un collo rugoso ma è il tuo collo, una cinquantenne, dici però guarda come sta bene, copre, allora ti identifichi e aumenti la possibilità di vendita, stessa cosa mi è capitato per un e-commerce di smalti, cioè far vedere anche le mani da quarantenne, perché vuoi prendere quel target lì e questo ti cambia completamente tutto. E poi alla fine si tratta anche in questo caso di fare dei grand test, test per vedere quello che funziona, quello che non funziona. Assolutamente, poi c'è qualcosa che funziona meglio, qualcosa che funziona peggio, poi ovviamente uno dice, poi magari alcune audience sono anche piccole, alcuni angoli hanno un audience piccolo dietro, però non fa niente perché se io ho 10 audience piccole in cui ci metto 200 euro al giorno e queste quindi sono 2000 euro al giorno, 200 euro per una apposta che 1000 solo su una, sono 2000 euro in cui mi portano magari 100 conversioni, 100 conversioni per 365, per 50 euro di carrello medio alla fine dell'anno sono soldi, quindi in realtà non è che per forza tutte le audience devo mettersi poi 1000 euro al giorno, posso averlo in modo parallelo, però capito che così scalo l'account e cambia. Per concludere un po' questo discorso, a un recente evento a Milano c'era Rand Fishkin che ha detto che l'epoca dell'attribuzione è finita e siamo passati ormai definitivamente all'epoca della misurazione, penso che condividi no questo? Sì sì, assolutamente, anche perché poi le campagne appunto non possiamo più valutare da canale singolo, anche una volta no, c'era la sfida tra i vari canali, sono più bravo io di Google, sono più bravo io di Facebook, sono più bravo io con i social, io c'è no, io devo diciamo misurare il mio risultato finale tutti insieme, il concetto del mer, il marketing, diciamo, è il dato che aggrega tutte le spese di marketing, diviso diciamo il numero di acquisti totali, perché oggi la persona è sempre più nel messy middle, cioè quando inizia a navigare, vede una cosa, l'attivi e compra, parte un processo di messy middle, di valutazione, esplorazione, quindi va su Google, su Facebook, su YouTube, va su TikTok e quindi devi calcolare tutto, misurare tutto nello stesso cappello, diciamo. Tra l'altro è cambiato un po' il concetto di fun, non è più il concetto di imbuto, ma c'è il concetto di Google, del loop, del nuovo di Google. Però appunto possiamo rispondere perché ad esempio il performance max, perché è nato che si è identificata nell'angolo, nel problema che tu hai esposto, però dici ok, mi è triggerato, ma adesso aspetta, siccome sono un utente voluto, inizio a cercare, quindi va su YouTube, come diciamo, poi magari va sulla Gmail e via dicendo, e una volta tu compravi l'advertising su Google, siccome ha più ecosistemi, YouTube, la Display, la Discovery, la Gmail, Google Maps, dovevi fare tutte campagne separate, invece la performance max dice, dammi solo 20 foto, 5 video, dei blocchetti di testo, sono io che mi arrangio a andare a raggiungere l'utente in questi touch point e mischio questi asset. Quindi ha risposto al messi video in questo modo, cioè è un'evoluzione epocale, tu in lo stesso momento stai andando su 5 touch point, l'ecosistema Google, invece prima era tutto separato, tutto a controllare in modo diverso, quindi capite l'evoluzione storica e la cosa interessante è che questa cosa, siccome poi dopo lui in tempo reale va a mischiare questi blocchetti, crea da solo delle tante varietà di ads, ti va a prendere un pubblico in cui magari non avrai neanche pensato di andarci e quindi ti accorgi che inizi a vendere prodotti che prima non vendevi, perché ti ha creato, magari su quella coda lunga non creavi delle ads perché era un tempo, un costo, invece se le crea da solo, per me è magnifico questa cosa. Diciamo che arriva un nuovo cliente e quindi come inizi la ricerca di questi microdati, questa analisi di mercato? Parlavi prima dell'e-commerce di frutta e nello stesso tempo vorrei associare anche una domanda sui cerchi di adozione che penso che si associa bene, se ci fa un esempio così capiamo al volo, sia cerchi di adozione e come fai a partire quando un cliente ti dà una commessa di analisi? Assolutamente. Allora, appunto, io il libro non è stato altro che mettere a terra, anche per me, scrivere uno dietro l'altro quello che facevo quotidianamente, cioè il metodo di lavoro e non ho fatto altro che prendere i concetti delle basi marketing, quindi Kotler, Porter, però fare quei passaggi lì della domanda di mercato, la concorrenza, i segmenti con nuovi strumenti. Quindi io appunto faccio, circa per queste tre sfere, argomenti, faccio dieci passaggi, tra cui ad esempio, non ti cito qualcuno per ognuno per ogni, ad esempio a domanda di mercato, come dicevo prima possiamo vedere con Ansra the Public ciò che le persone cercano su Google con Ubersuggest, SEOZoom o Semrush, tool legati alla SEO che dicono quante volte hai cercato una parola, un servizio su Google al mese, mentre per analizzare la concorrenza ad esempio possiamo vedere tutte le ads che sono attive di un competitor, perché c'è la libreria di inserzione di Google, quindi scriviamo Google Ads Transparency, possiamo vedere, dopo inseriamo il sito del nostro concorrente, vediamo esattamente tutte le ads che è attiva sul mondo Google, su YouTube, andiamo sulla libreria di inserzione di Facebook, uguale a quella di Facebook, poi c'è quella di LinkedIn, c'è quella di TikTok, quindi capite che con questi passaggi possiamo veramente capire tutto del mercato, iniziare a capire sui segmenti di mercato, come dicevo prima gli hashtag rappresentano un po' la vita delle persone, dietro la hashtag vegani, posso vedere chi sono, cosa fanno, cosa pensano, cosa mangiano, vediamo di tutto e poi appunto faccio questi passaggi, ecco ad esempio per FruttaWeb mi sono accorto che il mio cliente principale erano i vegani, che comprava frutta e verdura, una grande varietà di frutta e verdura, perché appunto quando sono entrato di FruttaWeb ho chiesto a Marco, che era il fondatore, ho detto ma chi sono i tuoi clienti? Tutti, chi è che non mangia frutta e verdura? No aspetta, certo mia mamma mangia da 60 anni frutta e verdura, è cresciuta in campagna, però non spende 5 euro anche nel 2016, adesso forse è un prezzo normale, però insomma per della frutta e verdura non mangiava la patata arancione, viola, quindi non sono tutti quelli che mangiano frutta e verdura, ma chi è che ha più bisogno di, bisogno di 1300 varietà di frutta e verdura? I vegani perché vogliono variare la propria alimentazione, però in realtà c'è anche di adozione, c'è che ha ancora prima bisogno dei vegani, che sono i crudisti, perché i crudisti mangiano ovviamente solo frutta e verdura, ma non possono neanche cucinarla, solo essiccata, diciamo cruda, quindi loro hanno più bisogno di me, poi appunto ci sono i vegani, poi ci sono i vegetariani, ma perché solo dopo i vegani, perché i vegetariani anche loro mangiano tanta frutta e verdura, tanta varietà di frutta e verdura, ma possono mangiare anche derivati animali, come le latte, uova, dicendo formaggi, quindi io da qui nasce il concetto di cerche di adozione, metto in fila da chi ha più bisogno a chi abbiano bisogno di me, ovviamente le chiamo cerche di adozione perché poi come se fossero i cerchi delle Olimpiadi, si intrecciano a fare loro, dei punti di contatto nel mercato, sì nell'audience, i crudisti c'è anche qualcuno che tende al vegano, i vegetariani e chi tende al vegano e al vegetariano e questo secondo me ho concitualizzato questo concetto in forte contraposizione con la curva di adozione di Roger, che diciamo l'ha portato nel marketing Seth Godin, nella mucca viola, che io consiglio, faccio e via dicendo, però, e rispetto, nel senso per me è un mito, però io non posso andare a vendere al più tecnologico, all'early adapter, chi compra frutta e verdura online, non è che chi ha Paypal, prima mia mamma non aveva Paypal, ma se fosse crudista, vegana, vede la pubblicità e mi chiede, mi compri quella cosa che ho visto, quindi non è che mia mamma è più tecnologica degli altri, quindi cerchi di adozione mettono in fila non perché è il più innovativo, ma per chi ha più bisogno di me e quindi ogni volta faccio questa considerazione, da chi parto, una volta che facciamo l'analisi di mercato, noi vediamo appunto n audience che possiamo attaccare, come dicevamo prima quella di Bruffle, quanti ce ne sono, ma parto da quella che ha più bisogno di me e questo secondo me cambia tanto, cioè cambia le conversioni, perché quando spendo 100 euro e se vado da chi ha meno bisogno di me, i vegetariani ci cliccano in 10, mentre se vado dai crudisti con la stessa parità di budget, ci cliccono in 20, quindi la parità di budget è il doppio delle persone che poi potenzialmente possono comprare da me, poi ovviamente questi sono più piccolini, come dicevo prima, poi mi allargo piano piano col budget, quando cresco di budget vado a scalare le audience, ma per bisogno. Da una mano esplori poi anche le altre nicchie. Assolutamente, in realtà ci sono altre sottanicche, come le sottanicche dei vegani, ci sono i vegani bodybuilder. Infatti quella cosa mi ha colpito. Guarda, è stata una folgorazione, anche qua l'abbiamo trovato facendo analisi, perché abbiamo trovato ancora quel screenshot che sono andato su YouTube e scrivo vegan, e state su YouTube ci sono i suggest, cioè ti suggerisce, ti completa la parola, ma quelle lì non sono casuali, sono le ricerche negli ultimi 30 giorni che le persone fanno di più in quella piattaforma, in questo caso è YouTube. E c'era vegan bodybuilder, e tu dici, ma perché? È questione di bisogno, il bodybuilder ha l'obiettivo di crescere con la massa muscolare e principalmente sono le proteine, non mangiando carne, e li trovavo da un'altra parte, quindi cercavo informazioni per... E da lì poi ci siamo andati poi su Facebook, abbiamo scritto hashtag vegabodybuilder, abbiamo trovato un mondo, chi sono, abbiamo visto che mangiano appunto le proteine, i superfood e le patate arancioni, quindi un sacco di articoli, cose, video, creators che abbiamo mandato le patate arancioni che hanno parlato di noi, cioè quindi da qui poi è nascita la strategia, è una nicchia piccolina. Sì, ma capite che come dicevo prima ne ho 10 di queste. Sì, 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 e poi ti posiziona molto come brand, è di lì, e poi gli altri arrivano magari di conseguenza anche con un passaparola organico. Sì, poi dopo, piano piano arrivano quelli affini. Esatto, esatto. E sto finendo di leggere adesso un libro, quello di Federico Marchetti, che è quello che ha fondato Jux, no? E lui è un amante dei dati. Di Bologna voi Jux. Di Bologna proprio, sì, sì, o di Ravenna forse. Lui di Ravenna ma Jux è Bologna. Ah, ok, ok. Però forse lui era originario di Ravenna. Era Renna. E mi piaceva collegarlo a questa nostra chiacchierata perché lui dice parecchie volte nel libro che è un grande amante dei dati e addirittura è arrivato a costruire due linee di prodotto proprie, a brand proprio, attraverso i feedback che gli davano i clienti. Quindi un settore fashion di alto livello, lui ha creato due linee di prodotto in base ai feedback dei clienti coinvolgendo degli stilisti che gli creavano poi effettivamente le linee, quindi producevano le linee e questo mi ricorda un po' il discorso del job to be done che probabilmente è questo per dire quanto è importante seguire quello che dicono i clienti e creare il prodotto in base proprio alle loro esigenze. Sì, un po' anche l'approccio Amazon, chi ha l'opportunità come te anche di vedere di tanti dati delle aziende dice ok allora magari c'è potenziale per farmi diciamo una linea propria come Amazon, le pile. Eh sì, le pile, Amazon Basic appena c'è qualcosa che vede. Amazon Basic fa questo, prende i dati interni degli altri venditori e a un certo punto dice ok adesso lo faccio io. Io che sarebbe fatto uguale. Sì sì, poi Marchetti l'ha fatto esatto, più una questione un pochettino più creativa perché c'è tutto il discorso dei design e quindi però è interessante quel discorso lì. Nel nostro piccolo anche io sto cercando di introdurre il job to be done che sostanzialmente è un fare in modo che l'innovazione del prodotto non arrivi dall'azienda, dal top dell'azienda e poi imporlo sul mercato ma fare in modo che il mercato suggerisca attraverso dei feedback, tutte quelle esigenze che non sono soddisfatte per arrivare a costruire un prodotto che possa essere pronto sul mercato e apprezzato con una probabilità maggiore di successo rispetto a lei. Sì perché parti dal dato. Diciamo che anche io, appunto il mio libro si chiama il mio primo libro Design Marketing perché prende i concetti dal Design Thinking. Design è visto come progettare, quindi progettare il marketing, il Design Thinking appunto è progettare il pensiero diciamo e quello che fa osserva offline diciamo soprattutto tutte le nostre interviste, il Design Thinking e progetta un qualcosa, quindi il prodotto nasce assolutamente dopo, nasce dal bisogno delle persone. Io Design Marketing, prendo alcuni concetti del Design Thinking come l'Empathy Map e dico osservo le persone online e poi da qui faccio le strategie. Dicevo non è che so che strategia faccio oggi, no aspetta, capisco prima con la licenza del cliente, in che piattaforma è e da qua poi faccio la strategia. Penso sia l'approccio proprio corretto che porta più risultati. Esatto, esatto. Ti chiedo un insight, nel senso siccome hai avuto un successo pazzesco con i tuoi libri e ti vedo ancora molto nelle ads, no? Ti dici come hai strutturato la tua campagna per il libro e come adesso vedo che comunque continuano ad arrivarmi anche ads con esempi proprio concreti, brevi video, no? Sei voglia, ecco. No, 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 ma certo, sono super trasparente, anzi mi piace di condividere, dico sempre condividere e moltiplicare, quindi assolutamente. Allora intanto, anche proprio col concetto anche startup, era il 2019, ho detto ok, voglio fare il libro, per me appunto i micro dati, c'è anche la parola che ho portato sul mercato, ho detto ma mi tireranno i pomodori, diranno che… Allora cosa ho fatto? Ho fatto prima un test di mercato, cioè io appunto avevo fatto per lavorare meglio questi passaggi, li ho messi a terra per meno, su un PDF, diciamo, un Word, quello che… i passaggi da fare. Allora cosa ho fatto? Ho fatto un corso sopra, un sabato pomeriggio, mi sono messo tre ore, ho registrato un corso di un'oretta e mezza, due, ho pubblicato una landing page, ho pubblicato il corso sopra, ho messo a un costo, era 37 euro, per i frontend, c'era… e da lì ho iniziato a fare delle ads e dire, oh, vuoi capire come analizzare la concorrenza, come analizzare la baglia personas? Guarda, ci sono i micro dati, quindi da lì… Poi ho venduto 600 corsi in 6-7 mesi, però nessuno pubblicamente diceva qualcosa, perché era un corso, però tutti mi scrivevano in privato, quindi da lì ho capito che, diciamo, aveva assenso i micro dati, ho deciso poi di fare il libro e da lì poi come l'ho promosso. Da una parte, appunto, anche per me condividere è importante, perché ho tratto anche molto delle condivisioni di altri, ho mandato ai colleghi già conosciuti il libro, le è piaciuto un concetto molto nuovo quando è uscito il libro e quindi mi hanno loro a loro volta condiviso, mi hanno portato audience, poi ho mandato una newsletter, quei 600, quindi insomma da lì subito 1000 venditi in una settimana, che è tantissimo dal perfetto sconosciuto del settore. È molto tecnico il libro, quindi… Sì, perché è piaciuto molto perché è molto operativo, anche quella un po' l'innovazione e poi da lì invece dopo ho dovuto questa condivisione, ho dovuto fare le ads e le ads, come dicevi tu prima, è un po' il concetto che dicevamo, cioè a posto di dire prodotto centrico, questo è il libro per analizzare il mercato e uno dice, ok, sì, becchi la… quando tu lavori prodotto centrico, comunque sicuramente inizi a vendere perché lavori sulla parte bassa del funnel, cioè le persone pronte già acquistare, vendono una cosa e la comprano, vedi un libro di un imprenditore che ti piace, lo prendi, non è che stai a guardare a fare, quindi c'è comunque una base pronta. Invece con tutti gli altri cosa ho fatto? Ho fatto tutte ads in cui prendevo un problema e come vendere questo? Guarda, per vendere questo e questo e questo. Come capire qual è la tua base personas per questo prodotto? E davo la soluzione, quindi capito? Prima do e poi dico guarda vuoi ampliare? C'è il prodotto e questa cosa va fatto per tutte. Quindi un po' l'approccio è sempre quello, capire le persone, quali sono i loro problemi e da qua fare angoli, trigger e contenuto utile. Io sempre, secondo me, il contenuto quando è che è efficace, quando è utile e rilevante per la persona e poi ovviamente che portano alla conversione a noi, perché ovviamente ce la parliamo a fatturare, su questo, c'è poco da fare. E per quanto riguarda il retargeting, pensi che abbia ancora grande importanza, penso di sì, no? Sì. Tu lo usi anche? C'è un aneddoto, io sono un fan del retargeting da sempre. Ho iniziato a fare Facebook Ads nel 2012 e Facebook Ads nel 2012 era molto semplice, nel senso che pochissima concorrenza, le persone non capivano che era una pubblicità, quindi veramente, adesso semplificando, però se avevi un buon prodotto, una buona offerta, la mettevi su e vendevi. Adesso semplificando. Però io ho sempre detto, ma ok, la metto su, inizia a vendere da subito con pubblico nuovo, ma comunque ci sono persone che vedono la pubblicità e non sono pronte subito a comprare. Quindi io ho sempre fatto poi retargeting, mi ho sempre portato metà delle vendite del pubblico nuovo, cioè non so, facevo 100 vendite con il pubblico nuovo, ne facevo 50 con il retargeting, però a un costo più basso, perché andavo a prendermi le persone e ci mettevano di più. Quindi io sono sempre un fan di questo. Continuo a fare il retargeting, solo che è cambiata a livello tecnico l'impostazione. Cioè appunto, all'inizio dell'intervista, diciamo, impostavi il retargeting di persone che hanno interagito ma non hanno visto il sito, poi le persone che hanno cliccato, hanno fatto aggiunto al carrello. Che ha visto almeno il 50% del video. Dei fan almeno li facevo lunghissimi, anche io mi divertivo così. In realtà adesso appunto quello che faccio, metto gli stessi contenuti che mettevo prima spacchettati, le metti tutti insieme in unica audience di retargeting. Poi lascia l'algoritmo capire quale proporre, se ha cliccato di più o di meno, ma lo fa l'algoritmo, perché come dicevo prima, traccia i comportamenti in tempo reale delle persone. Quindi lui decide a chi farlo vedere, quante farlo vedere in base ai comportamenti. Non c'è più bisogno, diciamo noi, è diventato estremamente intelligente, perché capisce che chi ha fatto il carrello deve andare in più in frequenza, magari fargli vedere più lo sconto, mentre che se lo cliccate magari fargli vedere la recensione. Quindi fa da solo. Quindi è solo cambiato a livello tecnico, non a livello strategico, ci tengo tanto a dirlo. Curiosità così veloce. Tu usi il tipo native advertising o display per fare questo retargeting? Allora, diciamo che sì, dipende dal progetto. Non tutti i progetti sono adatti. Allora, intanto la display, diciamo che è molto utile, molto il retargeting, perché vado in frequenza esposizione, un banner, cioè tu volte che ti ho triggerato, ti dico oh, questa è la stanza d'albergo, questa è la maglietta, questa è la crema, e quindi vado a fargli vedere, diciamo, con immagini, banner che li vedono, anche se le intravede, però frequenza esposizione è importante nel retargeting, quindi è super utile. In realtà, oggi è estremamente utile anche per, diciamo, l'upper funnel, il top funnel, sempre gestito dall'algoritmo in modo da solo, però diciamo il banner poi non è appunto solo su il mondo internet, cioè nei siti web, ma anche nella discovery di YouTube. Quindi anche quello si può considerare display concettualmente, se puoi essere tecniche puristi, un po' storgo nel naso, però quello è, quindi assolutamente, si deve usare, hai dei costi molto bassi, quindi puoi andare su un pubblico ampio, lo puoi usare come concetto anche di brand e poi nella discovery si può portare anche performance di conversione, quindi sì, la native viene usata, soprattutto la native che cos'è? Possiamo definirla articolo di giornale, che sia Repubblica Gazzetta, poi in fondo ci sono degli articoli. A volte sono anche un pochettino con contenuti che... Sì, sono contenuti, e uno dice ai miei colleghi, non ci cliccherai mai, no? In realtà io poi sono, se avevo denunce, io vado in treno, con le persone che navigano di fianco a me, gli do sempre una sbirciata, e se tu vedi che noi siamo il target delle persone over 50, ad esempio, ci cliccano tantissimo sul native, non capiscono, pensano che sia un altro articolo... Ancora un articolo proposto dal giornale e non una pubblicità esterna. Sì, perché poi molte volte sono molto correlate all'articolo che stanno leggendo, quindi come se fosse un altro approfondimento di quel concetto, e quindi ci cliccano, vanno a vederci l'advertorial, cadono su un'advertorial, l'advertorial è un articolo di giornale informativo che però vende anche, poi di solito in fondo c'è sempre o registrati, lasciami l'email, o compri il prodotto, e vedi che le persone ci cliccano, si registrano e stanno lì, si guardano anche i video, quindi il punto è, sì, dobbiamo usarli a seconda del target. Il tipo di prodotto che vendiamo, di tutto. Se si vende il libro con un advertorial, con i colleghi di marketing, no, altre cose per alcuni prodotti assolutamente sì, quindi dipende dal percorso d'acquisto delle persone, quindi bisogna fare l'analisi. Anche perché si può impostare, veramente come un articolo, magari uno fa un advertorial sulle patate americane rosse, sui contenuti, e ecco già che hai fatto un contenuto comunque di valore. Guarda, faccio un esempio, bravo, faccio un esempio, my personal train, mi sembra essere il sito quello più personalistico. Che poi è di un gruppo importante. Sì, sì, assolutamente. Tu stai leggendo come migliorare l'articolo vegan bodybuilder sotto patate arancione per vegan bodybuilder, è ovvio che ci clicchi, che vai a leggere il mio articolo. Quindi assolutamente sì, dipende da… Contestualizzato al suo… Sì, bisogna non buttare lì, mi hanno detto che il native va bene. Il native va bene se il tuo cliente è lì, se è correlato, un contenuto utile, rilevante per la persona, è sempre lì il punto. Passiamo a un argomento proprio importante, no? Quindi il performance branding, giusto, no? E quindi i tre elementi che un po', i tre pilasti che lo compongono. Cioè ne vuoi parlare, no? Che penso sia una parte importante, no? No, è sempre più importante, piace sempre di più i clienti ed è sempre più la realtà dei fatti. Cioè cos'è il performance branding? È un concetto che, diciamo, diffonde un'agenzia americana che si chiama No Good, fa un bel articolo che dice è finita l'era in cui la parte branding e performance sono separate, cioè la parte organica dei social, dalla parte vendita, advertising è separata. Perché? Perché intanto, sempre il discorso del messy middle, la persona prima di comprare da te siccome è iproinformata, cioè l'ipro riscelta, ci mette tempo. Quindi è importante sia dare contenuti di brand utili, rilevanti di identificazione, diciamo, e una parte compra-compra. Faccio un esempio, dovessimo vendere un corso di yoga, un contenuto di brand è i 5 tappetini di yoga, come scegliere il tappetino di yoga, come la playlist mentre fai yoga, cioè non ti sta vendendo il corso di yoga, ti sta parlando di come scegliere una cosa, cosa fare, quindi un contenuto utile. Dall'altra parte invece il contenuto è compra il corso di yoga, però per arrivare a comprare il corso di yoga, tu la compri da questa persona perché la reputi affidabile, ti ha dato le informazioni magari utili prima. Quindi cosa bisogna fare? Non sono separati, ma bisogna riuscire a portare questi contenuti all'interno della performance. Nel secondo libro di Spersona spiega proprio a livello tecnico come unire questa parte qua. Quindi il punto è, siccome la persona ci mette di più a convertire, ha bisogno di più contenuti utili rispetto a come dicevo prima, mettevi su un ad, scompra, comprava, andiamo a fare questo passaggio. Quindi non si parla più di reparti separati a silos, ma di reparti che lavorano insieme con un unico obiettivo, sapendo che la performance converte prima quelli che sono pronti, invece il branding andrà dopo. E poi quello che facciamo, ci accorgiamo che se lavoriamo tanto di organico, bene, non butto la foto, contenuti utili per persone, e ti accorgi che nel lungo periodo inizia il costo di conversione diretto, il costo di acquisizione, il cacca, inizia ad abbassarsi. Ma perché ti stai portando dietro tutte quelle persone che hanno interagito all'interno della parte organica. Quindi insomma è imprescindibile. Adesso ho conosciuto, appunto, di stare in consulenza con un commerce importante, spende un milione all'anno e un 30% del budget lo mette tutto in performance brand, cioè fa organico, che sponsorizza, che porta dentro le audience all'interno della parte conversione. Insomma, questo è quello da fare, c'è poco da fare. E c'è la differenza tra il piano editoriale e il piano pubblicitario? Come li dividi? La preparazione dei contenuti proprio, no? Sì, tanto appunto hanno obiettivi diversi. Il piano editoriale per me è un obiettivo di lungo periodo, in cui è creare fiducia nelle persone, creare fiducia, relazione è una cosa lunga, anche no? Quando, questo anche nella vita reale, conosciamo una persona, si deve fidare di noi, creare fiducia, legame, via dicendo. Quindi sono contenuti informazionali, contenuti che non ti stanno vendendo nulla subito. Ad esempio, l'e-commerce di gioielli è come scegliere l'anello di matrimonio, l'anello di finanziamento, come pulire i gioielli d'argento, cioè non sono vendita. Poi ovviamente stai mostrando i tuoi anelli, stai mostrando, e alla fine dici, guarda, questo anello ti piace, è venuto bene, guarda che bella pietra, lo trovi sul mio e-commerce. Però comunque il 90% è un contenuto informativo che ha l'obiettivo di vendere, ma acquisire fiducia. Mi ricordo, faccio un esempio, i Pharma, nel settore dei farmaci, che aveva creato per ogni patologia una scheda molto completa, dove spiegava tutta la patologia, come si poteva curare, e naturalmente in fondo proponeva il suo fatto. Quindi il concetto è quello. Sì, anche un po' l'advertorial, appunto, anche noi nel blog erano praticamente tutte advertorial, cioè ti dico cos'è la patata arancione, come cucinarla, la tabella nutrizionale, e poi alla fine dico, la trovi su frutta web, cioè questo era quello che facevamo. Quindi, e questo, insomma, siccome è dare contenuto utile e rilevante alle persone che portano alla conversione. Mentre appunto, è questo, anche per capire quali sono le domande delle persone, tornando all'analisi, vado a vedere su Google quali sono le domande che le persone fanno con il bersaggia e le stanze pubbliche, e creo contenuti su quello. Cioè quello dei toppettini, non è che me la sono inventata, l'ho trovata lì. quale musica usare, l'ho trovata sotto un commento di un'altra creators, che le persone dicevano quale musica posso fare, e via dicendo. Invece il contenuto, diciamo, di vendita, è un contenuto in cui ribadisco, parto sempre, diciamo, prima anche per provare il mio libro, ti do la risposta a un tuo problema, molto breve, però, e ti dico compra questo libro. Una pillola di valore. Una pillola di valore molto incentrata, diciamo, alla conversione, che so che è un contenuto da conversione. Come vendere questo prodotto? Grazie all'analisi. E se di qua magari ti dico, funziona meglio Facebook o meglio Instagram? Che cos'è la brand conversion? Ti sto dittando un contenuto informativo in cui parlo per un minuto, un minuti, faccio un carosello, capito? Cioè è proprio diverso la concettuale perché ha due obiettivi diversi. Non c'è uno meglio dell'altro, cioè quando le facciamo lavorare insieme, ovviamente i risultati un po' più lungo periodo, sei, otto mesi, poi dopo campi sempre dei mesi passati, piano piano, insomma, porta a vantaggi. E questo piace tantissimo ai clienti perché quando gli spiego questa strategia di come puoi prendere il contenuto organico, metterlo all'interno dell'advertising per far influenzare queste audience che girano tra di sé, mi dicono finalmente riesco a dare ancora un più senso, un più valore al piano organico in cui se non, cioè se fai una bella cosa ma poi non paghi, cioè tranne i creator, insomma, prendendo i brand, non va, però tu hai messo tempo, soldi. In questo modo lo porti in leva, mischi le due audience, si possono far interagire fra di loro, insomma. Ti volevo parlare anche di un altro concetto perché tante volte mi vengono proposti per consiglia, anche a volte anche per investimento, dei progetti in cui si parte subito con un business plan molto dettagliato in cui si dirà cosa succederà da qui a cinque anni e io dico sempre ma facciamo prima un test di un prodotto, come hai detto te, proviamo a fare il classico minimum valuable product o comunque una versione te per provare cosa succede, perché sennò diventa un libro dei sogni, no, questo business plan, quando tu sei, mi sembra di aver capito che anche... L'hai fatto anche col libro. Esatto, l'hai fatto col libro. L'ho fatto altri esempi. Quindi sei, perché veramente il discorso del business plan e poi tante volte mi cipicchio nei commenti perché mi dicono, ah no, ma devi farlo il business plan, devi farlo, quindi si tratta di due cose diverse, non è che non bisogna fare il business plan, perché quando si è già lanciato il progetto, quando si deve svilupparlo, quando si deve crescere, ottenere finanziamenti, ma qui si parla proprio quando sei ancora in fase proprio di testare il prodotto se il mercato possa recepirlo o meno. Allora, business plan è fondamentale, cioè i numeri fanno stare in piedi un business, senza fare il calcolo dei margini non si va da nessuna parte, quindi sono assolutamente pro. Business plan, qual è il problema? È che se lo fai senza andare sul mercato per capire effettivamente se il tuo prodotto ha un senso per delle audience? Quanto costa convertire quelle persone? Come fai a fare il business plan? Cioè, sono numeri, si ipotizzo che, perché molti cosa fanno? Cioè, dicono il mercato vale. Esatto, e prendono il mercato di riferimento, se prendiamo una fetta di quel mercato siamo un per cento di un mercato da un miliardo, 100 milioni, 100 milioni e il costo di acquisizione è 20 euro, cioè se faccio 100 milioni diviso 20 euro, ci vogliono 500 mila euro per raggiungere 5 milioni, scusate la mia matematica senza calcolatrice, e tu magari hai 500 mila euro sul conto, dici ok, sono niente, non farei mai l'un per cento del mercato. Invece se fai il test di mercato, intanto capisci come ho fatto con il libro, ma ha senso questo prodotto? Sì o no? Sì ha senso. Ah, guarda, ho fatto dei test, ho visto che converto a 20 euro. Ok, allora aspetta che provo ad alzare il budget e vediamo cosa succede. Cioè, faccio il test, poi dopo il test, che possono durare 4-6 mesi, dopo faccio il business plan, dopo metto, faccio le cose per bene. Faccio un esempio, nei miei primi progetti ho avuto sempre questo approccio, diciamo, start-up. E' stato carino, uno dei primi e-commerce che ho testato, era un po' nel mondo vegano, era una pastizzeria dolci vegani. Ha detto, ma nel 2014, insomma, forse, ma compreranno le persone una torta vegana? Cioè, la vedono, la possono sentire, assaggiare, vedere. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una landing page che ho scritto, siamo pastizzeri vegani dal 1994, e abbiamo fatto la torta di San Valentino, e se la vuoi, clicca qua, che... anzi, scusate, abbiamo fatto un passaggio prima, scusate neanche, abbiamo fatto una landing page, proprio stile dropbox, una landing page in cui dicevamo, siamo pastizzeri vegani dal 1994, stiamo arrivando a consegnare in tutta Italia. Se vuoi sapere quando, lascia l'email. E mi sembra che ho preso più di mille contatti, con un costo di trenta centesimi, non era solo quanti contatti ho preso, ma anche a mille e due e quindici, una roba del genere, ho ancora di screenshot sul Caso Studio. Ma non era solo quello, ma erano anche le persone che ci scrivevano, ci scrivevano nei commenti, ma quando arriva? Quando partite? Quindi avevamo questa cosa, l'avevamo speso, sembravo, 200 euro, pochissimo, una cifra irrisoria. Dopo ho detto, ok, ci siamo fatti coraggio, ma l'abbiamo fatto all'e-commerce, che comunque ci vuole fare un e-commerce anche a loro, ci vuole 25 mila euro, anche solo per metterlo su, farlo bene, etc. Abbiamo fatto una landing page, con un monoprodotto, anche se aveva decine e decine di prodotti in pasticceria, che era appunto la torta sacca del San Valentino. Mi hanno detto, siamo arrivati, stiamo partendo, c'è questa torta sacca, la puoi ordinare, ma allora nel 2014, purtroppo non c'era Shopify, che facevi l'e-commerce in un attimo, WooCommerce, allora facci questa landing page e quando tu cliccavi su prenota, finivi su un type form, un Google form, in cui c'era, come ti chiami? Quante torte vuoi? Che nome vuoi scriverci sopra la torta? Quindi facevamo queste domande e alla fine compilava e potevo pagare alla consegna, dicevi di pagare o c'era addirittura Stripe, potevi già collegare la carta e abbiamo venduto, mi sembra, 120 torte con un costo di conversione 3 euro. E quindi da lì abbiamo detto, bene, si può fare l'e-commerce, però prima di arrivarci abbiamo fatto la campagna lancio con l'email e sarà stato tra che la fai, la metti su, fai un mesetto, nel 2014, ci sono posti un po' di anni. Poi dopo abbiamo fatto questa campagna che invece è durata due o tre settimane di lancio, abbiamo spedito più di 130 torte. Fantastico. Allora partiamo. Il risultatone, cioè quello che ti dai. Però ho capito quanto costava, quanto, ok, se c'era mercato. Poi lì fecevo un sondaggio anche io, vedi, poi le interviste, cioè il mercato è fatto di macrodati, microdati, interviste e io ho detto, lui avevano il profiterol, avevano il tiramisù, cioè dolci galattici per un vegano e ho detto venderemo, cioè devo portare questi, però ho fatto il sondaggio e ho chiesto ma cosa ti piacerebbe che trovassi nell'e-commerce che stiamo progettando? Le persone volevano le brioche, i biscotti, i robati tutti i giorni, il dolce, e se io volevo puntare tutto su quello. Come il discorso celiachia dai celiaci, più o meno la stessa, anche lì volevano tutti i giorni la brioche fresca. Vogliono quelli, io pensavo che dovessi dargli sempre il dolce, il babà, quel babà vegano, erano tutti bravissimi. A proposito, toccando il discorso e-commerce, stiamo andando verso un po' una rivoluzione, nel senso che Google Shopping ti permetterà di ordinare direttamente Facebook, TikTok, Whatsapp ad esempio che è già stato provato in negozio su Whatsapp. A livello di azienda, la vedi più come un rischio o come un'opportunità? Sono tutto opportunità, secondo me c'è CPT, il performance max che all'inizio è sempre un gran casino, c'è poco da fare sicuramente, ma quando iniziamo a capirlo, a integrarlo, sono al 90%, si può dire 80%, diciamo, sono tecnologie che ci aiutano a crescere e a fare. Cioè, se domani la persona clicca su una foto, un video di Instagram e gli dice compra direttamente qua, c'è come Amazon il one click, cioè ha già la carta registrata, clicca in un secondo e compra, come fa a non essere un'opportunità questa? Poi ho meno vendite sull'e-commerce, chi se ne frega, tanto poi pago la fee a Shopify per ogni vendita che faccio, me la chiederà anche Facebook, beh, che me frega, quindi io non vedo l'ora, cioè ogni cosa è qualcosa che ci può aiutare, però qual è il problema invece? Se ci facciamo, invece non capiamo i cambiamenti, come adesso chi non ha capito il cambiamento dell'algoritmo pubblicitario, sia di Google Performance Max e di Meta, mi scrive, dice, ah io fino a due anni fa facevo due caroselli, con due immagini vendevo, due anni fa, oggi se non ti sei adattato non vendi, ma se ti sei adattato vendi più di prima, perché ti sei allargata l'audience, come dicevo, gli altri non stanno performando, chi non si è adattato, quindi magari abbassate il budget, insomma, bisogna adattarsi e sono solo che opportunità dal mio punto di vista, difficili ma opportunità. Ti voglio chiedere ancora un discorso legato ai video, sull'importanza del video a livello, cosa ne pensi, avevi anche dato nel libro, hai dato qualche indicazione su come farlo proprio, perché secondo me il futuro lì è molto importante, il discorso che dobbiamo diventare un po' delle media company fa parte anche un po' di questo e il video sarà un prodotto pubblicitario che dovremo gestire in qualche maniera. Obbligatorio, allora intanto non sono i video diciamo di prima, per forza quelli super patinati, storytelling, vanno fatte anche quelli, vanno di brand a mettere sul sito, da mettere magari il targeting, però soprattutto quelli che sono da fare sono un po' stile passati un po' TikTok, stile UGC content, cioè TikTok creators, perché le persone sono abituate ai creators che ti parlano in video e non ti vendono nulla, diciamo ti danno informazioni inizialmente, poi magari ti possono vendere qualcosa, quindi le persone sono state abituate a questo, più secondo me il video rispetto a una foto dice mille cose in più, ti fa vedere il prodotto, te lo spiega, ti apre la crema, ti fa vedere com'è rispetto a una foto, quindi comunica molto di più al cliente, in più gli algoritmi vogliono sempre più video perché per l'utente ci interagiscono di più, le vedono meno pubblicitarie, quindi stiamo andando per n motivi sui video e io ho un cliente che si alloca ai commerce, retail, che non fa i video, non gli gestisco le campagne pubblicitarie perché non performano, questo vale anche per Google, cioè Google ti chiede 5 video da mettere su YouTube e vuole questo tipo di video perché la struttura che anche condivido nel libro è un video diciamo pubblicitario 30-40 secondi mediamente in cui hai 3-5 secondi che è il trigger di attivazione, problema soluzione, hai questo problema, guarda che, poi soluzione la spiego in 10-15 secondi perché devi comprare da me e poi c'è l'offerta finale, la call to action diciamo e questa parte qua in realtà c'è anche su YouTube se ci pensiamo, anzi su YouTube è obbligatorio ciucciarti il trigger perché ti dice e puoi schippare questo video tra 3-5 secondi, quindi ti obbliga a vedere quel trigger, quindi è concettualmente uguale la struttura, quindi insomma è un obbligo per l'utente, è un obbligo per l'algoritmo, è un obbligo sì, soprattutto perché l'utente è cambiato, questo è il punto. Beh, abbiamo fatto un po' un bel viaggio nel mondo dei dati, nell'analisi di mercato e siamo andati anche molto sul tecnico, quindi magari se qualcosa, magari non l'avete capito, penso valga la pena fare una piccola ricerca su Google di qualcosa. Sì, anche su LinkedIn mi scrivete, io so sempre esprimere. Esatto, perché comunque i contenuti sono di valore, quindi assolutamente apprezzabili, ecco. Passiamo alle domande un pochettino più personali, quelle di conclusione dell'intervista. E tu hai un mentor, una persona che ti ha ispirato particolarmente? Massimo, dai. Beh, diciamo che secondo me ho avuto sempre l'approccio della grande condivisione, dare tanti eventi, guardare, seguire colleghi su LinkedIn, quindi in realtà prendo un po' spunto, un po' da tutti concettualmente, non è che ho proprio una persona, perché appunto il mio approccio è avere messi insieme diverse cose, quindi non ho mai seguito qualcuno in modo proprio accanito, per lui c'è ragione lui e basta, c'è stato mettere insieme le cose, stessa cosa che anche io non è che devo dire, ci sono solo i micro dati, io, quello che sei tu, quello che sei un collega e ognuno deve cercare di prendere quelle informazioni e plasmarle, diciamo, all'interno del proprio funnel, del proprio mercato. E come apprendi, come ti formi normalmente, come ti piace prendere nuove nozioni? Gli eventi, sì, perché poi tanti anche, una birra ti confronti e tanto LinkedIn, seguo le persone, su LinkedIn condividiamo tutti tantissimo, la nostra esperienza personale e poi da lì appunto me lo devo cercare, vado ad approfondire, cioè sono scritto molto meno newsletter rispetto a prima, non che non siano di valore, io preferisco, ho questa nuova quotidianità, poi è la mia, ho detto che sia corretta, però tanto LinkedIn. Invece hai mai pensato cosa avresti fatto nella vita se non fossi diventato un marketer? Il pompiere, perché faccio il pompiere volontario da 15 anni e quindi sarei entrato nei pompieri permanenti. Nel marketing si dice che bisogna partire dal perché, soprattutto le aziende, quindi non tanto cosa fanno, come lo fanno, ma perché lo fanno. Qual è il massimo il tuo perché, quello che ti motiva, che ti fa alzare la mattina e che dici ah, un'altra giornata in mezzo ai dati perché mi piace, qual è il tuo? Beh appunto, ho scelto un po' di fare marketing perché per me mi entusiasma da morire, soprattutto le analisi mi fanno scoprire prodotti nuovi, prodotti nuovi che sono prodotti assurdi, sono persone che, una volta ho fatto un'e-commerce, un'analisi per un e-commerce che vende pollai online, c'è quasi 3 milioni di fatturato, perché c'è la nicchia di chi coltiva le galline, ornamentali anche, ok? Quindi è questo scoprire, diciamo, mi diverte scoprire mondi, mercati, e dall'altra parte poi quando applichi, non so, progetti come anche Frutta Web, partito da una bottega, poi insomma è stato ad essere acquisito, a una cantina nelle Langhe che ho seguito durante il Covid, che è disperata perché è un vino che viene venduto principalmente a ristoranti stellati, chiusi, quindi un vino comunque molto importante, e ho detto, cioè ce l'ho qua, cosa faccio? Mi conosceva, mi aiuti a vendere online, quindi andare sull'online, fare lo stesso fatturato che faceva prima, anche superarlo un po' nel retail, quindi è questo, vedere che poi il marketing, hai un progetto personale come il mio, un libro, hai delle competenze, le porti sul mercato, e puoi essere in tre anni, iniziare ad essere conosciuto, essere apprezzato dagli altri, quindi... Una continua scoperta, no? Una scoperta è il fatto che il marketing online ti consente da piccolo, con tanta fatica, però, di emergere nel mercato, questo per me è bello, entusiasmante. Ho fatto un post in settimana legato alla curiosità, perché tutte le persone, la maggior parte delle persone che ho intervistato fino adesso in questa prima stagione di Marketing Garage, hanno tirato fuori questo discorso di curiosità per dare a cercare fonti, magari farsi contaminare anche da settori che non sono i nostri, diversi, e quindi anche te ti ci ritrovi un po' in questo... Beh, io mi sono contaminato nel mondo start-up, la prima cosa che mi hanno insegnato è appunto il concetto di design thinking, business model canvas, ok, quindi mi hanno contaminato assolutamente nel modo in cui faccio analisi, il design thinking, il business model canvas, l'in start-up, come puoi metter a terra le strategie, e le grandi aziende piacciono molto questo approccio, anche non solo agli e-commerce, e quindi per me è sempre stata la chiave per creare qualcosa di nuovo, e soprattutto se non ci piace quello che facciamo, non siamo curiosi, se esce il nuovo tool, il nuovo cambiamento, diciamo che due balle non potrebbero mai fare questo lavoro, perché cambia sempre. Sì, tra l'altro è un continuo susseguirsi di tool, di cambiamenti, di cambiamenti, di algoritmi, di persone, di piattaforma, quindi se diciamo che due balle c'è quella nuova, non è il lavoro che fa per noi, e se a me ti dici ok, come posso sfruttare questa cosa, questa opportunità come siamo prima, allora è divertente. Dai Massimo, siamo arrivati all'ultima domanda, quella classica del marketing garage, pensi che il meglio debba ancora venire? Sempre. Dai, grazie Massimo per questa bella chiacchierata, per essere passato dal marketing garage, ti regalo la maglietta, che non puoi tornare senza maglietta, nel marketing garage. Grazie, grazie mille. E naturalmente potete trovare questa intervista anche su tutte le piattaforme podcast, tutte le principali come Spotify, Apple Podcast, e ringraziamo ancora Massimo, è stata una puntata, penso, veramente ricca di contenuti, e alla prossima intervista. Ciao. Ciao a tutti.